La lotta alla criminalità nella Valle dell'Agno ha una nuova trincea, la superstrada pedemontana Veneta, un'opera che servirà ai cittadini, le aziende, ma di cui potrebbero avvantaggiarsi anche ladri, banditi e malfattori vari che, dopo i loro colpi, hanno bisogno di una via di fuga veloce. Insomma, con l'apertura del nuovo casello Valle Agno serve una strategia per la sicurezza. In prospettiva, perché nel 2021, dopo le stagioni delle clausure e dei lockdown in cui c'è stato un calo fisiologico dei reati, siamo tornati ai livelli pre-Covid. Dunque, bisogna tornare ad alzare la guardia, a cominciare dalla vigilanza elettronica continua con una rete di telecamere Targa System per cui tutte le auto che entrano ed escono dalla Valle dell'Agno vengono rilevate e monitorate. Ci sarà la polizia di Stato con la polizia stradale che garantirà il pattugliamento sul tratto 24 ore su 24 e tutto il lavoro comunque sarà coordinato insieme con l'arma dei carabinieri e anche la stessa guardia di finanza. Stretta sui controlli, con pattugliamenti 24 ore su 24 sulla superstrada penemontana. Per questo serve un'iniezione di organico nelle fila delle forze dell'ordine. Nel 2021 sono state introdotte 62 nuove unità di pubblica sicurezza. Nel 2022 si attendono ulteriori rinforzi, una necessità espressa anche dai sindaci della Valle. La necessità di qualche innesto ulteriore nelle nostre stazioni dei carabinieri e della polizia. Si lavorerà pure a uno scambio di informazioni tra comuni e forze dell'ordine più fluido e continuo in un patto per la sicurezza tra i sindaci di Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno. Con l'avvento e l'apertura del casello della pedemontana non bisogna abbassare la guardia. Bisogna continuare a tenere il territorio monitorato e benvenga l'intervento, nuovo intervento che ci sarà della Polstrada, proprio con l'apertura del casello che pattuglierà tutto il tratto della nuova superstrada pedemontana Veneta, l'implementazione dei Targa System ma soprattutto quello che auspichiamo come sindaci è la condivisione dei flussi di informazioni tra i Targa System e la Questura e tutte le forze dell'ordine. Di certo ci saranno degli aggiornamenti e delle riunioni periodiche proprio per verificare lo stesso stato dell'arte.